Bastos 4 maggio, una notte di rara sofferenza, a cominciare dall'errore, che spalanca a Matavitz lo spazio necessario per insaccare comodamente il momentaneo il primo. Con il passaggio a 4 dietro va ulteriormente in difficoltà, lo salvano una parata di Stracoscia su una sassata dell'ex generano e la mira sbagliata di Castaigne Gnos, che da due passi si divora il 3 marzo.Dvri lunga 5 maggio, nello sbandamento generale, è quello che cerca di tenere in piedi il reparto, Anche se in occasione della rete del 2 gennaio forse avrebbe potuto fare qualcosina in più. Luiz Felipe 5, il battesimo da titolare non è dei migliori. Si fa attirare spesso dal pallone perdendo le distanze con i compagni di reparto, rimedia un'ammunizione evitabile che lo condiziona nell'affrontare la scica in occasione del vantaggio olandese. Dal 12 S.I. Immobile 7, il gol è la solita ciliegina su una torta fatta di tantissima corsa e di un lavoro fondamentale per i compagni di squadra. Mette lo zampino anche nella rete di Murgia. Ma Lusic 5 maggio, gioca un discreto primo tempo, mettendo in mostra qualche spunto apprezzabile, ma va in sofferenza con il passaggio alla difesa a 4. Spinge poco, troppo passivo sul redoppio olandese.